Abbiamo un problema siccità enorme, le gestioni commissariali non hanno assolutamente migliorato la condizione dei consorsi di bonifica, rispetto alla riforma del 2019 non c'è stato nessun miglioramento né dal punto di vista operativo gestionale né dal punto di vista economico finanziario dei cinque consorsi, abbiamo avuto solo un commissariamente, quindi direttamente dalla giunta regionale e quindi dall'assessore imprudente, ma i risultati sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti, delusi tutte le organizzazioni di categoria che chiedevano interventi ma soprattutto risorse, abbiamo la grande siccità, abbiamo il caro in energia, abbiamo vissuto una pandemia che ha fatto soffrire l'agricoltura abruzzese ma non c'è stato nessun intervento diretto, operativo, concreto da parte di questa giunta regionale. In quattro anni hanno solo tenuto in ostaggio i consorsi di bonifica, soprattutto non aver preso e partecipato nessun fondo del PNRR. Quattro emendamenti per rinviare le elezioni consortili, le elezioni erano state già indette, quindi uno sperpero di denaro pubblico a carico degli abruzzesi e soprattutto degli agricoltori abruzzesi.